Interprete nella parte di Beth, dello sceneggiato televisivo Piccole donne, del 1955, che ebbe un grande successo di ascolto. Ha poi interpretato altri lavori a puntate diretti dal marito. Fra gli altri, Jane Eyre, del 1957, e dall'altro specialista del genere, Daniele Danza. Fra gli altri suoi lavori figura anche lo sceneggiato La fiera della vanità, del 1967, dove fu diretta ancora dal marito Anton Giulio Maiano.